. . Seggi aperti da stamattina alle ore 7 in Friuli Venezia Giulia per le elezioni regionali, amministrative e per i referendum consultivi. Si voterà fino 23, mentre gli scrutini cominceranno alle 8 di domani. Lo scrutinio per i rinnovi delle amministrazioni comunali avverrà immediatamente dopo quello per le regionali. A seguire, nei comuni interessati, lo scrutinio relativo ai referendum consultivi. Sono 1.369 i seggi elettorali allestiti nei 215 comuni dell'FVG. Ad essere chiamati alle urne per il rinnovo degli organi regionali sono 1.107.425 aventi diritto, 535.318 uomini e 572.107 donne. In 19 comuni si vota anche per il rinnovo delle cariche amministrative. I referendum consultivi per la fusione tra i comuni di Aquileia e Terzo d'Aquileia e quella tra Raveo e Villa Santina coinvolgeranno in tutto 7.774 aventi diritto di voto. Il risultato elettorale friulano diventa un test praticamente decisivo per...